Una raffinata catena di Sant'Antonio dove a passare di mano invece dei soldi era la merce, quintali e quintali di pregiate pelli già elaborate che da Chiampo avrebbero dovuto finire a Riyadh, in Arabia Saudita. Ma il Medio Oriente era solo un miraggio e il prezioso carico, tir dopo tir, complici autotrasportatori, intermediari e faccendieri, ritornava proprio nel Vicentino, a pochi chilometri di distanza da dove era partito, a Zanè. A scoprire l'ingegnosa truffa, che se fosse andata a segno avrebbe fruttato 300.000 euro, sono stati i carabinieri di Valdagno, a cui si erano rivolti le gare rappresentanti della Mabopel, ignara azienda di Chiampo, vittima del raggiro, insospettiti dal fatto che non riuscivano più a contattare i fantomatici intermediari arabi. Questa volta siamo riusciti intanto a sgominare una banda veramente ben organizzata che appunto perpetrava queste truffe, nella fattispecie ai danni di una ditta seria ed affermata, che aveva regolarmente, o meglio che credeva di aver regolarmente venduto a prezzo di mercato, il pellame poi sequestrato. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare e denunciare una vera e propria banda di 10 persone, molte delle quali con precedenti specifici per truffa che erano riusciti a conquistare la fiducia delle vittime con piccoli acquisti consecutivi fino ad arrivare a proporre quello che avevano fatto passare come l'affare del secolo. L'intervento dei militari dell'arma ha permesso non solo di bloccare la truffa, ma anche di recuperare tutto il materiale conciato.